Piero Perrino, uno degli artisti molisani più affermati, terrà a Udine dal 1 al 15 febbraio nella Galleria Art Time una mostra dei suoi quadri più significativi. Sì, effettivamente sono stato invitato da questa galleria e sono rimasto molto contento in quanto è vero che faccio anche altri mostri, ultimamente sono stato a Verona, a Palermo, però questa qui è abbastanza importante secondo i miei progetti e quindi ho accettato ben volentieri. Quanti quadri e che tipo di quadri esporrà a Udine? Beh, generalmente io sono un astrattista concettuale, quindi sono una decina di opere che esporrò qui a Udine. Ecco, lei si definisce un astrattista, però delle volte rappresenta anche altri tipi di quadri, cioè va anche in altri ambiti. Io creo più che altro, perché dipingere una cosa che io creo e poi non è che creo sempre, comunque ogni tanto sì, vado fuori tema, diciamo, fra virgolette, perché faccio, non so, la fama nel mondo, faccio la violenza sulle donne, faccio sull'Afghanistan, esco un po' fuori tema sotto questo discorso. È stato invitato anche a una mostra collaterale alla Biennale di Venezia. Sì, mi è arrivato proprio ieri l'invito, sì. Grazie. 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 Grazie.